Il carro Il vincitore di cento battaglie entra nella città trionfante per ricevere il giusto premio dal suo imperatore. Sul suo carro passa veloce in mezzo al popolo che lo acclama e mentre con una mano guida i cavalli con l'altra impugna una frusta per impedire alla gente di frenargli la corsa. Il popolo lo acclama Egli li ha salvati dalla schiavitù degli invasori e l'imperatore lo attende per mostrare a tutti la sua generosità con chi fedele e suddito ha messo la sua vita e la sua mente a disposizione dell'impero. Grazie! 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 Grazie!